ed eccoci di nuovo in diretta con il nostro instant focus come abbiamo preannunciato prima della break pubblicitario ci prendiamo una breve pausa dall'analisi dei mercati per concentrarci invece sul settore immobiliare un settore ecco quello della real estate che è grande protagonista anche delle nostre dirette qui sulle fonti tv beh soprattutto l'anno scorso per la crisi ecco del settore immobiliare che ha caratterizzato il panorama asiatico in particolar modo la cina e poi sempre dal settore immobiliare ci sono dei dati fondamentali che arrivano soprattutto ecco negli stati uniti è un settore che influenza addirittura la decisione delle banche centrali quindi sicuramente in primo piano naturalmente ecco noi ci concentreremo oggi sul contesto italiano su come si sta evolvendo il settore della real estate e lo potete leggere anche attraverso la nostra strap il titolo della trasmissione un settore innovativo tra club deal e digitalizzazione cercheremo naturalmente di capire di comprendere di più e lo faremo con il nostro ospite di oggi ovvero alessandro gatti che è presidente di rialta e fondatore della start up ubic alessandro benvenuto grazie naturalmente per essere qui con noi sulle fonti grazie e grazie a tutti voi ben trovato ai telespettatori bene allora alessandro io stessa ecco sono andata un po a informarmi su cosa voglia dire esattamente club deal e club deal sono degli strumenti finanziari partiamo proprio dalla definizione che consentono a investitori privati di altro profilo di accedere ad opportunità di investimento alle quali non avrebbero accesso singolarmente o per le quali desiderano una esposizione limitata ecco partendo da questa definizione di club deal come si associa tutto questo poi al contesto invece dell'immobiliare del real estate allora la regola base del mondo degli investimenti dovrebbe sempre essere la diversificazione quindi cercare di cercare di far sì che ogni investimento abbia il giusto peso desiderato nella nella vita cioè nel portafoglio complessivo e nella duration quindi nella vita del complesso degli investimenti del sottoscrittore della persona quindi partecipare a volte a investimenti di sviluppo immobiliare siano essi dei frazionamenti molto brevi quindi operazioni nel nell'arco dell'anno oppure dei proprio delle costruzioni cielo terra quindi almeno di un paio d'anni a come dire per un singolo investitore se devono avere questi investimenti un peso desiderato che potrebbe essere del 10 o del 20 per cento poi dipende dalla dimensione non è un discorso sui generis il peso dell'investimento rende impossibile la larghissima maggioranza della della platia degli investitori di poterlo fare come unico e poi come unico sottoscrittore quindi i club deal i club deal che creiamo hanno proprio questo questo come dire questo grande vantaggio lavoriamo a contatto con molti family office e con molti private banking di alto profilo e cerchiamo di dedichiamo una società di capitali quindi un essere lì di scopo a uno sviluppo immobiliare e sono spesso volentieri parecchi milioni da investire e in questa trovano spazio diversi investitori che partecipano proprio come soci sottoscrittori quindi come soci investitori di capitale non nella gestione perché la gestione aspetta area alta che gestisce questa con le costellazione investimenti offrendo possibilità partecipative proprio con diverso orizzonte temporale diversi rendimenti attesi e insomma la possibilità di mixare all'interno del portafoglio di ogni persona ogni persona chiaramente che ha un monte di investimenti importante di pesare quello che è lo sviluppo immobiliare al proprio interno senza dedicare risorse eccessive rispetto a quanto è consigliato secondo la normale prudenza per per fare proprio un un esempio chiaro per comprenderci allora la realtà effetto investimenti immobiliari quindi sviluppo residenziale immobiliare in conto proprio oppure con capitali di terzi o mischiando cioè con capitali di terzi e capitali propri nello stesso investimento si passa da le operazioni piccole di frazionamento quindi un esempio racconto le ultime sono piani di palazzi acquisiti a milano magari di uffici da convertire in abitazioni o comunque di abitazioni molto grandi da da frazionare in realtà più piccole e la seguente commercializzazione queste sono operazioni molto molto veloci che non hanno problemi di titolo edilizio quindi di permesso tutto ma si compra si notifica e si parte chiaramente le operazioni vengono studiate prima e di solito entro i 12 mesi ci sono rendimenti piuttosto importanti con o senza leva bancaria quindi con o senza ipoteca a seconda del profilo di rischio degli investitori oppure ci sono le vere e proprie realizzazioni di cielo terra in questo caso realta sceglie di non avere rischio autorizzativo cosa vuol dire se fa compromessi perfeziona l'acquisto e parte l'investimento quindi c'è il saldo e l'inizio dell'investimento solo quando la concessione edilizia viene ritirata quindi si parla di 18 mesi 20 mesi 22 mesi al massimo per la costruzione e la vendita costrumenti vendita costruenti molto innovativi di costruzioni altrettanto innovative quindi tipicamente per essere molto assorbite assorbite molto in fretta dal mercato parliamo delle cosiddette smart homes quindi con minimo idomotica un livello di come dire di efficienza energetica molto alto quello che cerca il pubblico delle grandi città oggi perché altra cosa per avere una rotazione molto elevata degli investimenti bisogna puntare su noi abbiamo un algoritmo studiato internamente che seleziona grandi città quindi mercati liquidi quindi almeno i capoluoghi di provincia o oppure località di vacanza molto gettonate comunque aree dove c'è dove c'è una grande differenza tra offerta di alto livello e domanda quindi la domanda deve essere un multiplo dell'offerta questo lo studiamo attraverso vari algoritmi che pescano dati dai portali da banche date banche dati poi io sono il vicepresidente del gruppo gavetti che più grosso provider di servizi in italia è quotata da una vita a decenni e decenni in azienda marchio storico che ha più di 70 anni quindi diciamo che all'interno della costellazione di aziende partecipate o controllate dal gruppo che si chiama fg invest abbiamo in house veramente la possibilità di confrontarci con i migliori professionisti del mercato chiaro ecco no io volevo proprio ritornare insomma all'evoluzione un po del del settore immobiliare proprio in questo periodo post pandemico perché durante i mesi precedenti si parlava un po di un rimescolamento delle carte con le grandi città che avrebbero dovuto perdere un po insomma di attrattiva invece con i piccoli centri che avrebbero riacquisito importanza e le persone si diceva cercano sempre di più di di stare nel verde di ritrovare il contatto con la natura anche complice l'esperienza dello smart working invece alessandro mi sta dicendo in realtà che i grandi centri continuano ad avere l'attrattiva che avevano nel periodo pre pandemico allora diciamo che le persone sono diventate molto più esigenti per quanto riguarda la propria abitazione quindi c'è la ricerca di terrazzi ad esempio che sono gettonatissimi per una vita da riaperta poter mangiare all'aperto con gli amici zone giorno più fruibili magari uno uno spazio strutturato in maniera intelligente per lo smart working quindi che rimane un tassello fondamentale dello sviluppo del mondo del lavoro però io non ho visto una vera fuga dalle grandi città quanto piuttosto la possibilità di rivitalizzare aree più periferiche parliamo ad esempio a milano che sta creando dei veri e propri centri nuovi come isola come city life che non sono diciamo a velocità a distanza di passeggio dal duomo purché siano ben collegati ecco la fortuna delle periferie come può essere delle città vicine come monza ad esempio vicino a milano che per la quale verrà inaugurata presto metropolitana e sta vivendo un ottimo momento dal punto di vista delle transazioni del mercato l'essere collegati vuol dire molto alle grandi città pensiamo ad esempio a genova a genova hanno annunciato l'arrivo delle dell'alta velocità quindi in 40 45 minuti si arriverà in stazione centrale a milano e diciamo che per una metropoli come milano a volte 40 minuti i metti per tre chilometri se sei se sei dall'altra parte della città quindi se si può decidere abitare dove c'è il più grande parco cittadino europeo insieme a londra parco di londra che è quello di monza oppure se se abitare in un posto di mare che ha le spiagge una vita che costa meno della metà di milano un clima molto più favorevole come genova ecco diciamo che la vera concorrenza delle grandi città sono le aree collegate due più che il paesino sperduto dove magari si va in vacanza ma ma ecco diciamo che lo smart working completo non ha sostituito il lavoro in chi certo certo e mai è un'estensione del lavoro che può essere in alcuni momenti della settimana chiarissima le esigenze chiaramente nuove non sono scomparse ma sono state rimodulate riformulate è evidente ci stiamo tutti adattando insomma in questo periodo di trasformazione e di cambiamento volevo parlare anche di un altro focus ovvero quello del problema del mismatch ovvero della far coincidere la domanda e l'offerta noi qui alle fonti ne parliamo molto spesso in termini proprio di evoluzione del mondo del lavoro ma ecco il mismatch nel settore immobiliare che cosa ecco quali spunti ci dà e soprattutto come la tecnologia soprattutto l'innovazione digitale aiuta insomma a far sì che la domanda e l'offerta trovano trovino un punto di coincidenza allora tutto il mondo del real estate è sconvolto negli ultimi anni dall'arrivo del cosiddetto pro tecno il tecno e le properties quindi la tecnologia che sta invadendo il mondo dell'immobiliare con soluzioni sempre sempre innovative sotto tutti gli aspetti l'aspetto del funding ad esempio col crowdfunding l'aspetto della della messa a reddito degli immobili come gli affitti brevi e la stessa gabbetti short trend del gruppo gabbetti oppure meravigliosa attività start up alla partecipazione che si occupa di workation che è il lavorare nei luoghi ameni quindi lo smart working in luoghi ameni oppure tutto quello che è l'ausilio alla vendita di immobili per ovviare a questo mismatch in questa difficoltà di interpretare nell'acquisto della casa da parte del pubblico il come verrà quindi il posticipare perdere magari le occasioni migliori no sta partendo una bellissima residenza aspetto quando metà sono vendute perché così inizia a alzarsi iniziano a creare la io posso andare curiosare vedere ecco io ho fondato nel lo scorso anno e con diciamo poi l'ausilio è entrata digital magic su incubatore nel capitale poco tempo fa un mese fa ho fondato ubic che questa nuova propte che questa azienda che si occupa che questo ab di ricerca che si occupa di marketing avanzato per real estate praticamente che cosa fa ubic quando un palazzo non è ancora nato vende i propri servizi ai ai developer quindi agli sviluppatori immobiliari e poi sta preparando pacchetti per le agenzie immobiliari per i portali di crowdfunding diciamo a molti molti interlocutori nel mondo real estate ma che cosa fa aiuta ad immaginare in maniera assolutamente fotorealistica come sarà il vivere in una residenza che ancora non è nata quindi ha creato questo questa piattaforma di realtà aumentata nella quale è possibile con il pc con un normale device mobile oppure con bellissimo ad esempio bellissima l'experience con il visore quindi mettendo quelli quindi quegli occhialini della realtà aumentata si è possibile vedere entrare entrare in casa entrare nelle parti comuni visitare la casa passare tra le stanze appacciarsi sul balcone e con dialogare con il venditore in una come se fosse uno zoom come quello che che usiamo comunemente e la possibilità ad esempio di configurarlo perciò quindi vengono caricati dei render fotorealistici a 360 gradi molto particolari che consentono una una navigazione vera e propria e davvero il potere con semplicemente con il passaggio di un dito togliere la ceramica mettere il parquet cambiare il bagno è quello dell'intelligenza artificiale vedere come viene arredato con l'arte povera come viene arredato invece in chiave più moderna o più barocca questo rimuove l'incertezza quindi una persona può veramente avere la sensazione fisica della casa che va a acquistare e questo aiuta sia gli sviluppatori perché possono costruire avendo già venduto quindi incassando gli appunti ovvia ovvia sicurezza ma soprattutto costruire su misura per il cliente perché chi acquista prima poi può partecipare diciamo alla decisione di come vengono sviluppati gli impianti il taglio dell'abitazione è un win-win certo certo è chiaro sì 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 la rivoluzione digitale ha parlato appunto di realtà aumentata di intelligenza artificiale stanno completamente rivoluzionando il vostro settore ed è ovviamente un win-win nel senso anche in termini di risparmio di tempo perché lo sappiamo in realtà ecco quanti quante ore si perdono per visitare i vari immobili invece qui come dice lei basta mettere un dispositivo collegarsi e sia un'esperienza realistica soprattutto ecco restando comodamente magari seduti dal divano di casa propria senza dovessi spostare quindi è questa è una veramente un grande vantaggio per i futuri acquirenti esatto 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 rimuove l'incertezza la tecnologia diventa veramente utile quando consente di rimuovere l'incertezza di evitare problemi quindi come come in tutti i business no tutto quello che soddisfa un bisogno e in questo caso il bisogno di non sbagliare l'acquisto veramente ha al suo spazio nel mercato è molto molto divertente ne vedremo delle belle certo certo è sì 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 si apre un nuovo scenario una nuova possibilità proprio un nuovo mondo ecco abbiamo parlato naturalmente di rivoluzione digitale di creatività anche perché è un settore che implica anche una base di di creatività un'ultima domanda le faccio ecco se dovesse indicare un'altra parola chiave per comprendere lo sviluppo del real estate nel presente ma soprattutto nel futuro quale indicherebbe allora tecnologia e sostenibilità veramente le parole chiave sono queste c'è tutto l'apparato degli operatori del real estate deve digitalizzarsi e dotarsi di tecnologie adeguate perché questo migliora la customer experience in acquisto ma migliora anche dopo l'utilizzo della casa ad esempio parlavamo della domotica e i consumi sostenibilità perché la sostenibilità in senso allargato cioè la qualità della vita degli spazi comuni quindi in determinati segmenti di mercato in determinate città avere una zona ad esempio per ricevere le persone per fare smart working o la palestra o comunque degli spazi verdi ben organizzati ripeto la tecnologia deve essere al servizio nel real estate come negli altri campi per migliorare la vita delle persone certo della qualità della vita chiarissimo e poi ovviamente sostenibilità immagino anche energetica che riguarda proprio insomma le case le case del futuro abbiamo visto quanto il problema dell'energia abbia influenzato proprio in realtà tutta europa in in questi mesi proprio a causa della del conflitto internazionale quindi anche insomma una sostenibilità da quel punto di vista io alessandro la ringrazio tantissimo per questo approfondimento che ci ha dedicato sull'evoluzione il futuro del settore immobiliare naturalmente ci ritroveremo presto qui sulle fonti per fare un po il punto della situazione e vedere quale altre scoperte vengono messe a punto perché ormai l'innovazione tecnologica non si ferma davvero mai grazie ancora ad alessandro gatti presidente di rialta e fondatore della startup ubic grazie a tutti voi grazie a presto grazie a tutti